Il nuovo esordio alla bombonera avviene il 18 febbraio 2007. Davanti c'è il rossario centrale di un giovanissimo anche il Di Maria. Roman torna a indossare la maglia numero 10 Zenese e sugli spalti si intravede uno striscione. Romance de quattro meses, amor por siempre. È lui il trascinatore del Boca nella Libertadores e il tracciante con cui buca la porta del gremio nella finale di andata è il manifesto del suo ritorno. Il 2007, quei mesi di puro amore e puro football liberati con la potenza di una tonnellata di tritolo, ci offrono indubbiamente il miglior richelme della carriera e il Boca diventa per la sesta volta nella sua storia campione del Sud America. A oggi è anche l'ultima volta.